Mantova Segreta La Marcia su Roma con Vittorio Gasman e Ugo Tognazzi La città è assolutamente riconoscibile E una delle scene a grande sorpresa Sarà girata proprio qui in via Massavi Adesso vediamo se effettivamente è così Secondo me proprio in questo portone Buongiorno Scusi, hanno girato qui la Marcia su Roma? Hanno girato qui la Marcia su Roma E allora vedete che Mantova Segreta è anche questo Bussi ti aprono e scopri che in effetti La Marcia su Roma è stata girata qua Vi aspettiamo questa sera Non perdetevi la puntata Ci saranno molte sorprese